Allora, buongiorno a tutti. Oggi parliamo di un argomento interessantissimo con il professor Pierluigi Petrillo, docente di diritto pubblico comparato alla Sapienza di Roma e vice presidente del patrimonio immateriale dell'UNESCO per il biennio 2021-2022. Infatti con lui parleremo proprio di UNESCO. Partirei subito, professore, con una domanda secca, netta, ma anche diciamo così banale ma non banale, semplice ma non banale, che è che cos'è l'UNESCO? Chi poi magari mi aggiunge anche che cosa vuol dire candidarsi a ottenere riconoscimento UNESCO e poi chi verifica questo bollino il suo mantenimento? Allora, innanzitutto il termine, la parola UNESCO è un acronimo che sta le prime due lettere UN, United Nations, l'ultima lettera Organization, quindi è l'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di quelle tre lettere ESC, la prima E educazione, la seconda S scienze naturali, quindi ambiente, e la terza C, culture, quindi cultura. Per cui l'UNESCO è l'unica agenzia delle Nazioni Unite che si occupa insieme di educazione, di formazione, di natura, ambiente, biodiversità e di cultura. Nell'ambito di questi ultimi due azioni, quelle legate alla natura e alla cultura, l'UNESCO è famosa per i riconoscimenti cui lei faceva scenno, i riconoscimenti eh sia di patrimonio mondiale, sia di riserva naturalistica, quelli che sono i famosi bollini che l'UNESCO dà in giro per il mondo. Forse i più famosi sono il riconoscimento di un sito, quindi di un luogo fisico come patrimonio mondiale eh dell'umanità, ovvero di una tradizione come patrimonio culturale immateriale. Sono percorsi di candidatura che eh molto diversi tra di loro, che vedono in ogni caso come protagonisti le comunità, i territori e che vengono presentati dagli stati con una cadenza periodica, in genere una richiesta ogni anno eh e poi hanno un percorso di esame, di valutazione da parte di esperti indipendenti diversificato a seconda che si tratti di patrimonio materiale o di patrimonio immateriale un processo di valutazione che può durare minimo due anni ma in media dura sei, sette anni al termine del quale si può ottenere il riconoscimento dato dell'UNESCO dall'UNESCO e viene ottenuto grazie ad un voto che mette insieme eh gli oltre centonovanta stati che aderiscono a questo a questo sistema. E quindi lei ha già citato due argomenti che poi volevo approfondire con lei mh esiste un patrimonio materiale, ha fatto un esempio, esiste un patrimonio materiale. Ecco parliamo del patrimonio materiale. Patrimonio materiale mh che cosa ehm beh innanzitutto che cosa può costituire un patrimonio materiale? Abbiamo parlato di un sito però magari mi faccio qualche esempio un po' più ampio per capire che cosa può essere iscritto e magari anche una piccola mh una piccola descrizione di quanto tempo ci vuole magari la tempistica per riuscire a raggiungerlo, quali sono delle caratteristiche che comunque devono essere collegate in questo riconoscimento perché non è una cosa così semplice comunque come eh sia candidarsi e ricevere quindi la possibilità poi di proseguire con un percorso che poi si concluderà con il riconoscimento effettivo. Sì assolutamente come dice lei. Allora patrimonio mondiale sono i famosi siti UNESCO no? Quando noi andiamo in giro per il mondo per il nostro paese e teniamo sotto mano una guida turistica anche solo una loan e il planet eh troviamo segnalati con grande evidenza quelli che sono i siti dell'UNESCO. Ecco quando si parla di sito dell'UNESCO vuol dire che quel sito appartiene è stato inserito in questa lista del patrimonio culturale e naturale dell'umanità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quel luogo è unico al mondo. Non esiste nulla di simile in tutto il mondo. E questo è il requisito essenziale per essere candidati. Il requisito dell'unicità. Per dimostrare l'unicità cioè per dimostrare che il territorio è unico al mondo serve un'analisi comparativa ovvero eh chi presenta la candidatura deve andare a studiare eh siti luoghi fisici simili eh per caratteristiche eh o per eh o per profili culturali o naturalistici simili presenti in giro per il mondo e dimostrare perché il proprio territorio è comunque differente rispetto a quegli altri siti. In Italia noi abbiamo il record mondiale di siti UNESCO. Al mi piace ricordarne alcuni eh legati alla alla cultura anche del del agrosilvo pastorale. Ad esempio eh il territorio straordinario eh delle Langhe Roero e Monferrato. Primo paesaggio vitivinicolo iscritto per nella lista per conto dell'Italia. Qualche anno dopo abbiamo ottenuto lo stesso riconoscimento per un altro paesaggio vitivinicolo bellissimo quello del prosecco superiore di Conegliano e Valdobbiate. Ma in precedenza altri paesaggi vitati erano stati iscritti pensiamo ai terrazzamenti delle cinque terre eh un altro esempio eh di incredibile di territorio e di come l'uomo è riuscito a plasmare il territorio eh assecondando un proprio bisogno. Ma accanto a questi che sono i paesaggi eh tradizionali del nostro paese abbiamo tanti altri siti scritti eh come centri storici pensate a Roma, il Colosseo, eh San Pietro, città del Vaticano piuttosto che a siti culturalmente presenti in più parti del nostro paese e recentemente ad esempio sono stati scritti i territori dei lungobardi cioè una serie di siti che vanno da Monza fino alla alla sud della Puglia laddove la presenza lungobarda in Italia una candidatura eh a rete molto molto ben fatta. Ecco i siti patrimonio dell'umanità dunque sono dei luoghi unici al mondo e non lo diciamo noi lo dice un un valutatore terzo appunto l'UNESCO che si avvale di un'agenzia specializzata che si chiama ICOMOS composta da i massimi esperti del mondo che vengono sul posto a verificare se il dossier riporta delle cose eh scritte correttamente a anche a verificare lo stato di conservazione del sito. Ecco perché non basta essere unici al mondo è essenziale che il territorio candidato sia anche tutelato in modo efficace da chi è il soggetto responsabile di quel di quel territorio perché ricordiamoci che l'UNESCO non eleva il livello di tutela di un sito iscritto nella lista. L'UNESCO dà un riconoscimento in termini di visibilità eh è una sorta di elenco dei superlativi delle eccellenze che consente appunto di orientare i flussi turistici di tutto il mondo ma non è l'Unione Europea che ti sanziona se tu violi qualcosa. No, spetta allo stato assicurare la massima il massimo grado di salvaguardia possibile di quel territorio. L'UNESCO è una sorta di piattaforma che consente di accendere i riflettori del mondo su quel territorio ma tu stato, tu regione, tu territorio devi poi assicurare la conservazione, la salvaguardia di quei valori culturali che hanno reso il territorio unico al mondo. Quindi potremmo dire in questo modo eh il l'UNESCO eh iscrive il bene nel nell'elenco e poi il territorio e gli abitanti di questo territorio, i produttori nel caso diciamo così si tratti di un patrimonio eh non artistico culturale ma un patrimonio agro silvopastorale come faceva l'esempio lei prima, siglano un accordo, un protocollo per collaborare nella manutenzione della situazione eh di fatto eh per cui è conseguito il bollino dell'UNESCO. Quindi c'è una collaborazione poi alla fine fattiva tra tutti i portatori di interesse di quella di quella zona. Assolutamente. È un bel impegno perché eh naturalmente richiede poi di monitorare anche una serie nel caso naturalmente dei siti di elementi eh anche legati a situazioni non strettamente dipendenti insomma dalle attività umane. Pensiamo solo ai cambiamenti climatici quando parliamo per esempio di ambienti come quelli che gli esempi che ha citato lei prima. Mentre quando noi parliamo di patrimonio immateriale mh ecco qui mh anche prima lei ha fatto correttamente un esempio ma vorrei diciamo così magari qualche esempio un po' diverso che sia anche a metà fra i due perché spesso eh diciamo è un patrimonio immateriale che interessa però anche un prodotto reale a me vengono vengono in mente viene in mente pantelleria mh perché è una eh avevo diciamo così letto anche per curiosità tutta la vicenda però eh in questo caso c'è un'indiretta tutela diciamo di un bene materiale attraverso eh l'accreditamento di una pratica magari mi spieghi spieghi bene questa cosa che è interessante. Sì nel duemilatré l'UNESCO ha promosso un'altra convenzione che l'Italia ha ratificato nel duemilasette per il patrimonio culturale immateriale. Che cosa vuol dire? Sono quelle tradizioni, quelle pratiche, quei riti, quegli elementi festivi che si sono tramandati di generazione in generazione e che però rappresentano l'identità, il bagaglio culturale di una comunità, di un popolo. In qualche modo potremmo dire che il patrimonio culturale immateriale è quello che viene prima del patrimonio culturale materiale perché è chiaro che senza le tradizioni che i nostri padri hanno tramandato ai loro figli eh non sarebbero possibili molti manufatti culturali. È quello che si nasconde dietro il prodotto culturale potremmo dire. Così l'Italia in questa lista anche qui anche in questa convenzione c'è una lista dei patrimoni culturali immateriali dove non è richiesto l'elemento dell'unicità perché i presupposti sono diversi quindi l'elemento che tu vai a iscrivere non deve essere unico al mondo ma deve essere rappresentativo. Che vuol dire? Vuol dire che deve essere vivo e che deve rappresentare l'identità di una comunità o di un popolo anche di perfino di singole persone ma rappresentare per loro un un forte fattore culturale un forte fattore identitario. Alcuni esempi eh lei faceva scenno prima a Pantelleria. Ecco qualche anno fa è stato iscritto in questa lista dell'UNESCO la coltivazione della vita ad alberello dello zibibbo di Pantelleria. Prima pratica agricola al mondo ad ottenere il riconoscimento dell'UNESCO. Eh che cos'è che viene riconosciuto patrimonio dell'umanità? Viene riconosciuta la coltivazione, la tecnica di coltivazione. L'isola di Pantelleria e Pantelleria è parola che viene dal dall'arabo e vuol dire isola del vento, è un'isola caratterizzata per una presenza molto forte del vento, un'isola molto ventosa, tale per cui storicamente i coltivatori, i viticoltori non hanno potuto coltivare la vite a spalliera secondo i metodi tradizionali ma si sono dovuti ingegnare una soluzione diversa. La soluzione diversa è quella di creare delle conche all'interno dei loro terreni. Per cui chi va a Pantelleria vede dei cespugli, non vede dei filari di vite. Dentro a quei cespugli molto bassi cresce la vite, in realtà la vite cresce all'interno di queste buche che vengono fatte nel terreno. È l'unico modo a causa del vento per consentire alla vite di poter tenersi in piedi. E in più c'è un altro fattore, è un'isola dove non c'è, non piove, piove pochissimo, dove l'acqua è poca. Allora costruire queste conche consente alla vite di avere un microclima speciale che gli consente di vivere sostanzialmente. Ecco, l'UNESCO ha riconosciuto questa pratica agricola come espressione della comunità pantesca. Che vuol dire? Vuol dire che i cittadini di Pantelleria avvertono questa attività di lavorazione della terra come appartenere alla loro cultura, alla loro identità, tale per cui se si dovesse perdere verrebbe meno la loro identità. È chiaro che è un riconoscimento che ha un effetto poi anche sul prodotto, perché oggi possiamo dire che i vini Zibibbo sono gli unici qualora vengano da Pantelleria, perché purtroppo non tutti i vini che si chiamano passito di Pantelleria vengono da Pantelleria, è una percentuale in realtà molto ridotta, nonostante abbia il nome Pantelleria sulla bottiglia, non è detto che venga da Pantelleria, ma possiamo dire che quelli davvero panteschi possono freggiarsi di essere un prodotto frutto di una tecnica dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. L'unica, la prima ad aver ottenuto questo riconoscimento, oggi non è l'unica. Ma posso farle un altro esempio, l'arte dei vizzaioli napoletani. Ecco qui, questo è un dossier che ho seguito, come anche quello di Pantelleria, di cui vado molto fiero, perché qui che cosa ha riconosciuto l'UNESCO dopo un lungo negoziato? Ha riconosciuto che la manipolazione di elementi primari come l'acqua e la farina, la trasformazione di questi elementi primari non è soltanto, non porta soltanto a produrre la pizza, ma è un qualcosa che appartiene alla comunità di Napoli e all'essere napoletano. Cioè, quando noi immaginiamo la città di Napoli, quando noi pensiamo di essere napoletano, un pezzo di quel corpo, di quelle persone, è fare la pizza. Se noi togliessimo quel pezzo, toglieremo l'identità di quelle persone. Ecco il motivo per cui l'UNESCO ha riconosciuto anche l'arte del pizzaiolo e non la pizza, patrimonio dell'umanità. Dunque si tratta di una convenzione che possiamo dire valorizza le persone, le comunità, le identità, mentre quella sul patrimonio materiale valorizza i luoghi fisici, i territori, questo valorizza gli individui. L'individuo è anche come parte di un'associazione, di una comunità e quindi potremmo dire valorizza quello che c'è dietro al materiale, quello che spesso si nasconde dietro al prodotto. Ma è ancora di maggiore importanza. Perché? Perché quando il consumatore fa delle scelte, spesso ignora che cosa c'è dietro a quel prodotto e perché un prodotto ha un valore economico nettamente, ha un costo nettamente superiore ad un altro. Allora andare a riconoscere la dimensione immateriale di quel prodotto, la storia, l'identità di quel prodotto consente al consumatore di capire perché quel prodotto ha un costo maggiore rispetto ad un altro. Perché c'è un'identità dietro. È una sorta di certificazione della tradizionalità e della cultura che sta dietro a questa produzione. Però adesso le faccio per concludere una domanda così numerica ma neanche poco. ma se dovessimo stilare una classifica mondiale dei patrimoni UNESCO, l'Italia, a che punto la posizioniamo in questa classifica? Allora, rispetto ai riconoscimenti ottenuti, l'Italia è oggettivamente al primo posto per il patrimonio mondiale materiale. Se la gioca con la Cina, c'è una battaglia con la Cina in corso molto forte, ma teniamo presente che c'è una piccola diversità di ampiezza territoriale tra Italia e Cina e quindi, come dire, se facessimo una proporzione tra riconoscimenti ottenuti ed estensione geografica, ovviamente l'Italia sarebbe. Per quanto riguarda l'immateriale, invece, l'Italia è un po' agli ultimi posti per i riconoscimenti ottenuti. Per tanti motivi, in primo luogo, perché abbiamo sempre puntato sulla convenzione del patrimonio materiale. Tuttavia, però, girando questo paese, io posso dire di aver conosciuto una quantità vastissima di tradizioni, dal carnevale alle feste popolari, all'opera lirica, che non è ancora stata iscritta nella lista dei patrimoni culturali immateriali. Questo mi consente di dire che, mettendo insieme i riconoscimenti, se forse non siamo i primi, siamo certamente tra i primi cinque. Beh, insomma, direi che è una grande soddisfazione da questo punto di vista. È una grande soddisfazione, ma è anche una enorme responsabilità che sta in capo non solo a chi governa questi processi, alle autorità politiche, ma anche ai territori e alle comunità. Sicuramente. Fa parte delle grandi sfide che comunque l'Italia nel prossimo venturo dovrà comunque sostenere, perché noi ci freggiamo sempre per la nostra cultura e per la nostra grande capacità di fare, la cosiddetta manifattura italiana e la cultura italiana, e quindi diciamo che questo può essere, sì, una certificazione, ma lo sforzo più lungo è mantenerlo nel tempo. Insomma, e quindi sarà una sfida per il futuro. Allora, io intanto, professore, la ringrazio per il tempo che ci ha dedicato. È stato magnifico, chiarissimo, proprio riuscito non solo a rispondere in maniera esauriente alle domande, ma anche poi a fare degli esempi che hanno chiarificato anche eventuali dubbi. E anche ha lasciato, secondo me, la voglia, probabilmente a molti, di sperimentare appunto una possibile candidatura per certificare pratiche e culture che effettivamente esistono e che in questo momento non vengono sufficientemente valorizzate. Quindi la ringrazio, le auguro al lavoro e magari ci risentiremo per fare poi un resoconto anche di questa sua vicepresidenza e di com'è andata. Certo, certo. Grazie mille, a presto. Grazie, arrivederci.